fantasy quilt oggi diamo una sbirciatina al nostro angolo del libro sono tutti i nostri libri che potete trovare nel catalogo online di www.fantasyquilt.it nella sezione libri appunto in occasione della promozione dei tessuti giapponesi valida fino alla fine del mese di luglio ho pensato di dare un'occhiata ai libri di Yoko Saito per l'appunto ne abbiamo tre uno due e tre uno più bello dell'altro iniziamo con la teoria del colore sempre di Yoko Saito è una guida appunto di studio per la scelta degli abbinamenti vedete che c'è la ruota del colore proprio dedicata ai colori dei tessuti giapponesi in modo che possiamo imparare appunto gli abbinamenti gli accostamenti così cari a noi appassionate del quilt giapponese molto interessante spiegato molto molto bene e abbiamo anche la possibilità di avere dei modelli dove mettere in pratica quanto Yoko Saito ci insegna ecco qua sono molto molto belli e molto molto interessante questo appunto è la teoria del colore per i tessuti giapponesi sempre di Yoko Saito abbiamo floral bouquet quilt in questo caso lavoriamo con delle applicazioni anche qua possiamo vedere che è molto ben spiegato ricco di dettagli e con dei passo passo per la realizzazione dei progetti proposti sia per le applicazioni che per i ricami che fanno risaltare appunto questi meravigliosi lavori proposti da Yoko Saito ultimo libro di Yoko Saito della nostra biblioteca sono i blocchi tradizionali appunto con il piecing a mano in questo caso e ci ritroviamo con 66 progetti cioè con dei progetti di borse e quilt che usano 66 blocchi tradizionali e qua vediamo appunto la sezione dei blocchi l'utilizzo dei vari blocchi all'interno di diversi progetti e poi successivamente proseguendo possiamo vedere le proposte di Yoko Saito in questo libro per la realizzazione appunto dei progetti proposti si va dalla lista del materiale necessario a tutte appunto le indicazioni per la realizzazione dei blocchi e dei progetti vi consiglio di dare un'occhiata al nostro catalogo online per trovare eventualmente una buona lettura per l'estate in modo da avere dei bellissimi progetti per il prossimo autunno inverno arrivederci alla prossima al prossimo appuntamento buongiorno